Al Via il ventitraesimo festival città di Caltanisset, un'occasione importante per diversi giovani. Sì, importantissima, ci sono venti partecipanti probabilmente da tutta Italia, il vincitore potrà andare alle finali di Castrocaro, ci sono quattro produttori che fanno parte della giuria, che proprio di lavoro cercano giovani talenti, tra cui insomma neanche a nominarlo conosciutissimo Red De Canzian, cantante dei Poo, ma c'è anche uno spazio dato a tutte le maestranze locali nei primi due giorni, perché è giusto dare un palco di un certo tipo per delle realtà che magari spesso non sono conosciute. Il festival è il festival, la nostra piccola Sanremo col dovuto rispetto. Momenti salienti del calendario? Beh, stasera si ascolteranno dieci partecipanti, ci saranno ospiti, il gruppo degli Armoniosa che fanno musica da film rivisitate, è una cosa molto interessante, ci sarà anche il violinista Francesco Nicolosi, che è stato protagonista di Italian's Got Talent, domani ci saranno i fly dance che faranno dei balli particolari e si deciderà anche chi andrà alle finali dove ne saranno soltanto otto, poi sarà terminale con tante risate con i tre e un quarto, soprattutto una gara che si preannuncia di fuoco. Dico anche a chi vuole venire che non si devono preoccupare che ci siano soltanto cantanti che suonano, che cantano, ma è uno spettacolo a tutti, effettivamente è in varietà, quindi è una serata diversa. Concorrenti da dove verranno? Ce n'è un paio che arrivano da Milano, l'altra Roma, poi moltissimi da tutta la Sicilia, ma presente anche quest'anno mi fa molto piacere, moltissimi partecipanti di Caltanissetta, quindi anche per loro è un'ottima occasione.